Con Giulio II, nel corso delle guerre d'Italia, il papato approfitta dell'occasione, il papato in realtà è il papo, un papa molto combattivo, Giulio II della Rovere, che riconquista questa ampia parte dei suoi domini del nord, fondamentalmente coincidevano con la parte centrale e orientale dell'Emilia-Romagna, dell'attuale nostra regione, ne approfitta per riportarli a un dominio più effettivo. Innanzitutto cacciando i vicari, quelli che di fatto erano diventati signori o in certi casi veri e propri tiranni. Nel caso di Bologna questo riesce nel 1506. I Bentivoglio tenteranno di nuovo di entrare in Bologna, ma senza successo. Si può dire che la storia istituzionale di Bologna parta proprio da questa, nell'età moderna, parta proprio da questa cacciata dei Bentivoglio, che rimette in discussione le condizioni di soggezione col papato. Quando la città si sottomette a Giulio II, propone però, cerca di sollecitare dal papa le condizioni di favore e le autonomie di cui aveva goduto dal 1447. Fra queste condizioni c'era l'autonomia fiscale, che era uno dei privilegi più importanti, e il fatto che il suo controllo del contado doveva essere mantenuto, il suo controllo che consisteva soprattutto nella giurisdizione. In età moderna il cuore della sovranità è la giurisdizione, cioè il fatto di poter giudicare, avere il monopolio della giustizia e della violenza, in qualche modo.